Rondine Jet, Renoua Armato all'argo all'interno, Rano Vainando, questi a lottare per il comando, con Rondine Jet che tende a scavalcare l'allievo di fronte, ma di fuori c'è subito Renoua Armato che insiste a imboccare la prima curva, Renoua ha richiesto che prova a sfondare, Rondine Jet che tende a mandarlo, a imboccare la curva, Renoua Armato leader, Rondine Jet, di fuori ringhio MRS, di dentro Reza Muro, ancora il 4 di Real IDL e gli altri, ragazzo di Sony in quarta posizione interna e avanza subito ringhio MRS, secondo Roberto Andreghetti va a chiedere strada a Renoua Armato dopo 200 metri solleciti, ringhio MRS insiste al passaggio davanti al tribune, tende a sfondare con frazione molto violenta, la frazione violentissima in 14-7 per sfondare, ringhio ha sfondato su Renoua Armato, di fuori scoperta Reza Muro, di fuori di Real IDL che si trascina Rana Vainando e via via tutti gli altri, 600 metri volanti per la testa dell'operazione con ringhio MRS che la prende molto veloce e allunga ancora su Renoua Armato che fa fatica a mantenere la posizione, Reale IDL che prova l'inseguimento, poi via via tutti gli altri, è Rondine Jet che muove dallo steccato con Reale IDL che è passata seconda, Rondine che fa fatica, la squalifica per un armato, ringhio MRS in fuga, su Real IDL richiesta, Rondine Jet, il 2 di Reza Muro all'interno e via via tutti gli altri con Ramon Starlight in coda al gruppetto, Ringhio MRS prova la fuga dopo un chilometro volante, di fuori rimane sempre coraggiosamente Rana Vainando, di dentro Real IDL, gli altri a lottare per gli altri compensi, si entra in retta d'arrivo con Ringho MRS che ancora ha una di margine su Real IDL, Rondine Vainando che prova l'avvicinamento, Reza Muro senza spazio, va a cercarlo, Giancarlo Bagli, 200 finali, Ringho MRS in calo, si avvicina, Real IDL e soprattutto Reza Muro, nel finale 3 a lottare, Real IDL, Reza Muro e probabilmente Ringho MRS nell'ordine, noi andiamo a rivedere, fra un istante l'arrivo per questa corsa che potrebbe aver portato la vittoria, Alessandro Pieropan, Real IDL sul traguardo, va a cavalcare, Ringho MRS di dentro, di fuori lo scatto di Giancarlo Bagli sui Reza Muro che potrebbe essere secondo, l'arrivo ufficioso, 4-2-6 per questa assista al Sant'Artemio, Real IDL, Alessandro Pieropan, il training quello di Walter Zanetti per la scuderia dell'omonimo, Walter Zanetti.